Regaliamo ai nostri pensieri la bellezza di un'alba al mare, quando tutto è calmo, quando te ne freghi delle scadenze e di quello che hai da fare, quando ti sai amare per quello che non sai fare, quando non c'è altro posto in cui vorresti stare, quando non devi per forza andare, quando la vita scorre lenta e ogni secondo ha dentro di sé la ricetta per farsi ricordare, quando non hai bisogno di qualcosa per sorridere e gioire, quando non c'è nessuno che ti voglia giudicare e anche se ci fosse te ne frega, perché fan culo il mondo, tra questo silenzio e tra queste mura invisibili fatte di brividi e scosse al cuore, tu finalmente stai bene. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!